Salve a tutti ragazzi, un saluto andamereo, operativi come sempre, siamo tornati con questo nuovo intervento ragazzi con la maglia da trasferta del Cagliari che era da un po' di tempo che non utilizzavo e ho deciso di tirarla fuori in occasione della partita di stasera Inter Cagliari, sperando che possa portare bene, che possa essere di buon auspicio, insomma sperando in una buona prestazione e soprattutto in un buon risultato in quelli di San Siro. Ma non è di questo che volevo parlarvi in questo video, perché? Perché in questo video voglio parlarvi di Inter Cagliari sotto un altro aspetto. Allora, per coloro che mi seguono da più tempo sanno perfettamente che io durante le partite sono solito fare delle live reaction, quindi live su YouTube, in cui praticamente faccio una sorta di telecronaca, ma l'obiettivo in realtà è quello di stare comunque in compagnia vostra, eventualmente anche grazie alla compagnia di Miro, Samu, Matti, Nico che intervengono appunto da un'altra partita per semplicemente confrontarci su come sta giocando il Cagliari, sensazioni, eccetera eccetera. Lo sapete perfettamente, quindi non sto qui a dirvi tutto. Ora, per i più attenti, chiaramente, è chiaro che cosa? Che Inter Cagliari di stasera non è una partita come tutte le altre, non soltanto per l'importanza, per il fatto che incontriamo l'Inter, eccetera, ma soprattutto perché è la prima partita che verrà trasmessa su DAZONE, su questa piattaforma streaming. Dunque, piattaforma streaming significa che per vedere la partita c'è bisogno della connessione internet. Ora, il fatto qual è? Molto semplicemente e tecnicamente parlando, se io, che di solito faccio il live reaction della partita del Cagliari con Sky, quindi Sky lo utilizzo tramite appunto il decoder, quindi il satellite, quindi non c'è bisogno chiaramente della connessione internet, e la live reaction quindi la posso fare tranquillamente perché la connessione internet la utilizzo soltanto per la live. Stasera c'è un problema logistico, o meglio, ci potrebbe essere un problema logistico, nel senso che se io utilizzo la connessione internet per chiaramente vedere la partita in streaming, nello specifico utilizzerò DAZONE, ho attivato esattamente questa piattaforma proprio perché comunque sapevo che questa sarebbe stata la prima partita, quindi ho aspettato fino adesso prima di attivarla. Infatti voglio anche capire, voglio testare un po' questa piattaforma perché ci sono state diverse critiche relativamente proprio alla riproduzione, eccetera, eccetera. Ma qual è il problema? Il problema è che al di là di DAZONE in sé, il problema potrebbe essere anche legato al fatto che se io attivo sia DAZONE sul televisore e sia chiaramente una live sul computer, non vorrei che l'utilizzo di due dispositivi che in quel momento specifico, contemporaneamente, vanno appunto a utilizzare la connessione, mi porti ad un peggioramento sia ovviamente della riproduzione della partita, che ovviamente anche della live. Quindi insomma è chiaro che c'è questo pericolo. Allora vi spiego come intendo procedere. L'intenzione è quella sicuramente di attivare DAZONE praticamente un quarto d'ora, 20 minuti prima dell'inizio del match, già subito per vedere un po' come funziona. Inoltre cercherò di attivare la live, se sono bravo, anche lì 10-15 minuti prima dell'inizio del match, perché in quel momento, già nel pre-partita, mi potrò rendere conto che cosa vedo in televisione, cioè se c'è una problematica nella riproduzione in TV della partita e se eventualmente ci sono anche delle problematiche a livello di live. È chiaro che nel momento in cui dovessi constatare una problematica di entrambe, perché ci sta chiaramente, dovrò chiaramente e necessariamente staccare la live action, perché comunque se no come faccio a vedere la partita? Cioè il mio interesse principale è chiaramente vedere la partita, ma questo penso che sia chiaro anche per voi. Di conseguenza vi invito chiaramente a collegarvi come sempre stasera intorno alle 20-15, 20-20, cercherò di essere bravo e di rispettare queste tempistiche, poi chiaramente valuteremo appunto lì per lì insieme che cosa succederà. Quindi era per me doveroso comunque dirvelo per spiegarvi semplicemente questa cosa, soprattutto magari per coloro che eventualmente si aggiungono di solito, non lo so, magari dopo una mezz'ora del primo tempo o anche all'intervallo, cioè se non vedete la live reaction è proprio per questo motivo, nel senso che magari ho appurato che ci sono delle problematiche a livello di connessioni internet. Detto questo ragazzi, quindi vi invito come sempre live reaction intorno alle 20-15, 20-20 e poi valutiamo il da farsi sul momento. Non mancate mi raccomando, come sempre, forza che è stato sempre, bacio chiaramente lo stemma insomma e chiaramente ci vediamo stasera. Ciao ciao!